guardate c'è gente c'è gente c'è gente sullo spot c'è gente dovremmo cambiare spot adesso vediamo un po' penso che andremo da un'altra parte perchè sul primo punto ci sono delle barche è un po' inflazionata la zona ormai ci fermiamo un attimo per verificare la corrente e poi all'inizio ci spostiamo mi sa che ci spostiamo perchè ci sono anche le reti barche professionali quindi un problema a trenare ora ci fermiamo qui 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 qui